Parliamo della Reggiana Box con il presidente Emiliano Martinelli, buongiorno, bentornato e buongiorno a Mattia Vinciguerra che è fuggile, benvenuto. Allora presidente, tante novità a partire dalla sede. Sì, abbiamo recentemente inaugurato in maniera ufficiosa, non ancora ufficiale perché faremo un'inaugurazione in grande stile, pensiamo intorno a settembre, però dal 17 di giugno ci siamo effettivamente trasferiti in Via Gioia all'Exman di Mificio Caffarri, quindi abbiamo lasciato gli spazi del Mirabello, gli spazi della palestra Zavaroni-Bita e Mirabello per andare in un luogo ovviamente con tutt'altro impatto dal punto di vista degli spazi, soprattutto perché abbiamo quasi triplicato la metratura, per cui riusciamo ad accogliere oggi effettivamente tutta la richiesta che gravita intorno al movimento pugilistico e la stiamo allestendo anche e soprattutto per dare un respiro più ampio. L'abbiamo intitolata, abbiamo anche dato un nome alla nuova palestra, si chiama Olmedo Boxing Arena, in virtù un pochino del progetto sportivo che stiamo portando avanti insieme a Olmedo, insieme al nostro direttore sportivo Luca Quintavalli, sarà un'arena effettivamente ricca di sorprese perché lì tutti i giorni dalle 9 alle 22 noi ci alleniamo, i ragazzi si allenano principalmente, ma ospiteremo anche per la possibilità di ospitare anche eventi, magari qualche corner legato più alla parte di cultura e alla storia di 100 anni della box reggiana, quindi stiamo preparando una serie di chicche per allestire e per arricchire lo fatto. E questo vedrà la luce nei prossimi mesi, nel prossimo anno immagino? Prossimi mesi, noi di solito siamo abbastanza veloci. Veloci, dovete essere veloci, i pugili devono essere agili e veloci. C'è stato anche il memoria alla Bondavalli, vinci guerra, lei insomma ha fatto degli ottimi match, è soddisfatto allora di come sta andando avanti la sua carriera sportiva? Sì, è stato un bel rientro, torno a combattere a Reggio, in piazza San Prospero, che è vicino casa, in pratica è vicino a casa, c'erano tutti gli amici, tutta la palestra, sono venuti anche i miei nonni da giù per vedermi ed è stata una bella emozione. Com'è stato questo match in particolare, quello che lei ha vinto per KO? Eh, breve ma intenso, diciamo. È stato anche breve quindi? Sì, breve ma intenso è stata, la prima ripresa, a un minuto e qualcosa, che uno in partito è sciolto, abbiamo iniziato a sentire i colpi, e loro ho iniziato a spingere anch'io e poi è finito... Senta, ma ha degli altri impegni sportivi? Quali sono gli obiettivi? Ah, l'obiettivo è puntare massimo massimo per il prossimo anno a fare l'italiano, poi puntare l'europeo, perché no al mondiale. Martinelli, a questo ragazzo le capacità per poter fare questo percorso? Dal nostro punto di vista assolutamente sì, è la capacità anche le idee molto chiare, che è una dote rara. Mattia, sono un ragazzo che oltre ad allenarsi veramente in maniera molto intensa, agli ordini del maestro Michael Galli, di maestri Michael Galli e Valentino Manca, ci dà anche una mano tra l'altro in palestra, allenando i più giovani, allenando i pugili amatori, che lo fanno anche un po' per passione. Questo sicuramente aiuta a creare un ambiente per il quale Mattia stesso possano insegnare, allenarsi e quindi creare un circolo virtuoso. Capacità fisiche, mentali, dal nostro punto di vista ci sono tutte, noi stiamo investendo tanto sulla sua carriera, e appunto puntiamo come primo step sicuramente ad un titolo italiano, che speriamo possa arrivare la chance nel giro del prossimo anno. E veramente è un ragazzo d'oro da tutti i punti di vista. Senta, il fatto di avere anche dei nuovi spazi, una nuova sede, in che modo poi dà la possibilità ai vostri atleti di allenarsi in modo diverso? Allora, sicuramente gli spazi, considerate che prima eravamo veramente in spazi molto ridotti, tra l'altro con soffitti molto bassi, con una dinamica anche di allenamento che era forse più cruda, più dura, però effettivamente è molto complessa, soprattutto nei mesi molto freddi e nei mesi molto caldi. Oggi con appunto la nuova palestra riusciamo ad offrire una qualità, in realtà una qualità a 360 gradi, dal pugile professionista come Matteo, ai ragazzi che combattono per i dilettanti e anche agli amatori. Quanti sono i vostri atleti adesso? Allora, come atleti agonisti siamo circa una cinquantina di pugili agonisti dilettanti e due professionisti, Matteo Vincicuerra qui presente e Arnaldo Marco, che regge nella categoria dei pesi piuma e superpiuma. E abbiamo circa altri quattrocentocinquanta amatori. Sono tanti. Quindi che si allenano per tenersi in forma fondamentalmente. Quindi c'è veramente un movimento del pugilato reggiano che sta raccogliendo. È degno della sua storia, potremmo dire. È degno dei cento anni di storia, diciamo. Che sono quest'anno? Sono stati nel 2022. Quindi 102 ormai, dobbiamo dire. 102. Senta, Vincicuerra, com'è tenere insieme appunto la carriera da pugile professionista e però anche allenare i più giovani? Ah, beh, stare comunque sempre nell'ambiente ti fa mantenere focalizzato sull'obiettivo, quindi ti dà una mano, dai, aiuto. E poi perché no, magari inizi a portare anche un po' di più pugilato nelle scuole, nelle cose così. Sempre calcio, 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 insieme a portare anche un po' di più giovani. Per insomma fare sì e la cultura sportiva vada anche al di là. Sì, esatto, per iniziare a cambiare un attimo. Senta, e avere una società appunto che la sostiene anche nei suoi obiettivi quanto conta? Eh, tanto. Fa tanto, quello fa tanto. Tanto, tanto, soprattutto un intero comune. Dai, Reggio comunque si può dire un intero comune che se il pugilato e poi i pugili fa... E c'era poi anche tanta gente a vedere. E il Memoria al Bondavalli è molto amato? Il Memoria al Bondavalli diciamo che è un appuntamento sportivo per gli appassionati di pugilato, irrinunciabile reggiani, nel senso che si celebra effettivamente, si celebrano le geste, le memorie, riportando altri ragazzi sul ring all'interno della piazza in cui Bondavalli vinse per due volte il campionato europeo nei professionisti. Diciamo che è l'appuntamento appunto per gli appassionati, che sono una cerchia diciamo ristretta, ma non così tanto, è l'appuntamento forse clou dell'anno insieme al vecchio Santo Stefano pugilistico. Che tornerà anche quest'anno? Che tornerà sicuramente anche quest'anno. È da un po' di anni che lo stiamo un po' anticipando, quindi lo portiamo al 23, soprattutto per permettere alle ragazze di godersi un pochino le festività che se lo meritano. Tornando al Memoria al Bondavalli, quindi oltre alla celebrazione appunto delle geste di uno degli sportivi più importanti di Reggio Emilia, che probabilmente non viene ancora riconosciuto in maniera così importante, nonostante come siano 27 anni. Dovrete fare della vostra sede una sala Bondavalli? Forse anche lì avremo qualche sorpresa. Non ce l'avate giustamente già pensato, immagino. Sennò proprio intitolare la sede. Chi lo sa, ce lo direte a settembre. Speriamo, speriamo. L'altra cosa importante della Memoria al Bondavalli, cos'è che anche tra l'altro con la formula che abbiamo utilizzato quest'anno, quindi coinvolgendo anche i ristoratori della piazza che hanno, perché tutto il bordo ring fondamentalmente era allestito con le distese dei ristoratori della piazza. Questo ha fatto sì che probabilmente anche persone che avrebbero normalmente visitato la piazza con le sue attività normali, hanno potuto intercettare, assaporare un pochino quello che porta il nostro mondo di quest'arte nobile, di quest'arte con cent'anni di storia sulla città di Reggio Emilia, hanno potuto vederlo con loro occhi anche persone che magari difficilmente si sarebbero abbiate. Tra l'altro non so se ci sono eventi simili in giro per l'Italia, portare la box in un contesto storico-artistico così è anche abbastanza suggestivo. Assolutamente, molto suggestivo, ci sono credo anche altre esperienze del genere, però per noi insomma il nostro cuore in piazza San Prospero ha questo appuntamento, tra l'altro anche i ragazzi che smagnano molto per riuscire a combattere, giustamente noi abbiamo spazio per far combattere 10-12 atleti all'interno di una riunione pugilistica, e questo è l'appuntamento in cui veramente tutti i nostri 50 ragazzi sgomitano per poter arrivare e partecipare. Le ultime due battute, riparto da lei, vinci guerra, lei in che categoria gareggia? Io gareggio nel medio massimo, il limite quindi è 79 kg e 300... Ha un rivale che è un rivale diciamo in senso positivo, che incontra spesso... No, da professionista ho appena iniziato la carriera, quindi non è che ho i rivali, poi io sono uno che mi dai dai, chi c'è 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 c'è... Lei è sempre pronto, qual è il suo colpo principale? O il montante al fegato o il diretto alla bocca e allo stomaco? Il montante al fegato è molto pericoloso. Vogliamo ricordare altre cose sui vostri obiettivi, i vostri appuntamenti? Allora, diciamo che i prossimi appuntamenti appunto sono molto focalizzati sull'inaugurazione. Credo che avremo un ricco calendario tra settembre, ottobre, novembre e dicembre di appuntamenti pugilistici. Quindi per aprire proprio le porte alla sede, questo un po' immagino l'obiettivo. Esatto, e anche alla città, perché è uno spazio tra l'altro che noi vogliamo che sia molto attraversato dalla città. Dopodiché ci sono gli impegni sportivi veri e propri, avremo, inizieranno da settembre, ottobre appunto i campionati italiani delle varie categorie di età, anche di pugili dilettanti. Noi quest'anno, insomma, l'anno scorso abbiamo già fatto un nostro micro record, perché abbiamo all'attivo i due campioni italiani, Michelle Nicole Vescovini e Giacomo Giannotti, in due categorie di peso, maschili e femminili. Siamo una delle poche palestre che hanno due campioni italiani contemporaneamente. Quindi dovete difendere i titoli. Quindi dobbiamo difendere la posizione e, perché no, aumentare. Quindi l'obiettivo è quello, aumentare. Grazie per essere stati con noi. A presto, appunto, con tutte queste novità.